La Fondo Valle Sangro è una delle infrastrutture più importanti del territorio, soprattutto per il polo dell'automotive che vive già un momento poco felice e che ha trovato respiro grazie al rinvio dello stop ai motori termici al 2035. La transizione ha un costo che dovrà essere affrontato da politiche che fanno leva su visioni. Era il 2018 quando è stato aperto il cantiere sulla statale 652 tra Gamberale e Civita Luparella, che però non ha visto l'inaugurazione nel 2022. Come previsto nei piani. La conferenza stampa, annunciata da Luciano D'Alfonso per questa mattina sullo stato dei lavori, ha provocato una reazione nel governo di centrodestra. Il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Umberto D'Annuntis, in una nota, rimarca che il cantiere è di fatto già sbloccato e i maggiori lavori previsti sono già stati finanziati. Si legge anche che il presidente Marsiglio, attraverso interlocuzioni con ANAS, ha avuto assicurazioni sul procedimento amministrativo e sulla ripresa dei lavori. Che però, di fatto, sono fermi. Questo cantiere realizza la più importante infrastruttura stradale per connettere le economie del mare Adriatico della nostra regione con le economie dell'altra parte del mare Tirreno, che ha a che fare con la regione Campania, non possa conoscere stop. La regione Abruzzo, durante la mia legislatura, procurò 190 milioni di euro per la Fondo Valle Sangro. Curò l'aiuto rispetto ad ANAS della elaborazione progettuale e dell'ottenimento dei pareri. Nel 2018 si fece la gara d'appalto internazionale e venne aggiudicata ad un'impresa seria. Dopo aver realizzato il 51% della produzione di cantiere e per circa 64 milioni di euro di sal versati, c'è stato uno stop causato da un problema che si può generare in un'attività di cantiere che prevede gallerie di quella sorta. E' comparsa una faglia di gas metano, addirittura proveniente da una profondità di 2.000 metri. Beh, questa vicenda che blocca quel cantiere non può riscontrare il disinteresse della regione. C'è bisogno di far redigere, ed è in lavorazione, una perizia di variante tecnica suppletiva di almeno ulteriori 20 milioni di euro. Una perizia tecnica suppletiva di variante non è un pettine d'argento di una vergine di Santa Rosalia. rinnova il contratto tra l'impresa De Sanctis e la stazione appaltante. Di cifre tocca parlare e soprattutto di tempi, ribadisce D'Alfonso, che corrono. Oltre all'automotive non bisogna dimenticare che l'infrastruttura porterà benefici anche al turismo.